Sono circa 7.500 le comunicazioni in arrivo nei prossimi giorni per informare i toscani su possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati per il 2012 e consentire loro di correggere il tiro. Nelle lettere che arriveranno via PEC o via posta ordinaria, l'agenzia delle entrate spiega ai contribuenti che dall'incrocio con i dati in anagrafe tributaria risultano delle somme non correttamente indicate nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2012. Nel dettaglio il maggior numero di segnalazioni riguarda Firenze 1.313, seguita da Pisa 1.159, Lucca 801, Arezzo e Livorno 739, seguono Pistoia, Prato, Siena, Grosseto e l'ultima Massa Carrara con 483. Chi troverà la comunicazione a due strade se ritiene di avere le carte in regola potrà mettersi in contatto con l'agenzia, evitando che l'anomalia si traduca in un avviso di accertamento. Se invece ha ragione il fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso. Nel segno della nuova stagione improntata al dialogo e alla trasparenza, il fisco punta così a intensificare la collaborazione con il cittadino, mettendo a sua disposizione i dati che lo riguardano e condividendo con lui eventuali anomalie che emergono dall'incrocio delle informazioni. Questa nuova tornata di invii, che si fermerà per la pausa estiva per poi riprendere a settembre, riguarda i contribuenti, persone fisiche tra cui anche i titolari di partita IVA.